Ascolto protetto delle donne vittime di violenza, una stanza tutta per sé presentata questa mattina in collaborazione con Soroptimist Club di Ragusa nella sede del comando dei carabinieri della compagnia di Modiken via Resistenza Partigiana. Presenti le massime autorità civili, militari e religiose per uno spazio, il terzo inaugurato in provincia, dedicato interamente alle donne vittime di violenza ma anche ai propri figli. L'approccio iniziale nei confronti delle vittime di determinati reati è fondamentale. La stanza tutta per sé ha proprio la finalità di porre le vittime in condizioni di rivolgersi alle forze dell'ordine nella maniera più accogliente, calorosa e protetta possibile. E' la terza stanza che viene inaugurata in provincia oggi presso la compagnia di Modica, già due sono state inaugurate in passato presso la tenenza di Scichile e la stazione di Ragusa-Ibla. Alla finalità, come dicevo, di fare in modo che le vittime di violenza di genere, di violenza contro le fasce deboli, di violenza domestica, possano trovare all'interno degli uffici di polizia quella possibilità di raccontare il loro vissuto in maniera serena, in maniera lontano da condizionamenti, già il fatto di dover evitare di fare la fila in presenza di altre persone che pur si regano presso le forze di polizia, consente alla vittima di non avere quell'effetto di vittimizzazione secondaria che è fondamentale da evitare in questo tipo di reati. Noi dobbiamo avere nell'animo la capacità di creare questi processi legati soprattutto al mondo dell'ascolto perché viviamo nella cosiddetta cultura dello scarto per cui avvertiamo nell'animo questo bisogno di sapere aprire il cuore a quelle che sono le necessità e le esigenze di tutti. In un tempo un po' particolare, l'altro giorno in seminario abbiamo celebrato un convegno sul disagio giovanile e ho voluto tre rose rosse e un paio di scarpe rosse alla memoria della nostra Giulia perché dico nostra perché ci sono delle responsabilità soggettive e delle responsabilità oggettive e le responsabilità oggettive sono di tutti noi, di questo mondo che noi abbiamo creato e allora sono estremamente felice perché l'Arma dei Carabinieri oggi inaugura questo spazio di ascolto che deve essere uno spazio libero perché dobbiamo cercare sempre più le cose che ci mettono nelle condizioni di potere sia chiesa, scuola, istituzioni locali, le forze dell'ordine, vivere questo processo di ascolto perché c'è tanto bisogno di essere ascoltati e noi dobbiamo lavorare per questo. Raccomando a tutte le donne di rivolgersi ai comandi dei Carabinieri troveranno comandanti, forze dell'ordine, psicologi pronte ad accorgerle, a capirle, a sostenerle e passaggio importantissimo a procurare loro, perché non è solo la denuncia, bisogna poi anche dare a queste donne la possibilità di collocazione in case famiglie che i Carabinieri conoscono benissime dove verranno seguite, avranno un reddito, siamo riusciti ad avere anche, noi adesso ero optimist, un reddito per queste donne e diciamo così, potendo abbandonare il luogo di violenza e continuare a vivere tranquillamente anche con i loro bambini infatti se vedete nella stanza abbiamo un angolo giochi perché tante volte le donne scappano portandosi dietro dei minori vi raccomando, fidatevi dell'arma dei Carabinieri